8 tonnellate di alimenti e sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro sono il bilancio di alcuni controlli dei NAS di Catania in alcuni esercizi commerciali del settore della ristorazione tra gli alimenti sequestrati e 20 kg di prodotti ittici di provenienza incerta per i quali non risultava documentata la cosiddetta filiera alimentare trovata all'interno di frigo congelatore installati all'interno di un garage antistante o ristorante del centro storico della città. Sette i titolari di ristoranti e di una gelateria che sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie ed amministrative per violazioni del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nell'arco di una serata sono stati controllati una decina di esercizi del settore alimentare tra cui una trattoria le cui cucine e i depositi sono stati trovati invasi da blatte i cui ambienti erano in condizioni igienico sanitarie molto precarie. Un altro sequestro è stato operato nei confronti di un ristoratore del lungomare che per la conservazione dei cibi utilizzava un locale adiacente non autorizzato e privo di requisiti igienico sanitari. Di minore entità le violazioni contestate a due ristoratori ed una gelateria segnalate all'autorità per adempiere ad alcune prescrizioni igienico sanitarie riguardanti l'omessa installazione di don e i sistemi per la lotta agli insetti ed altri animali nocivi. In un solo caso è stata applicata anche la sanzione amministrativa per mancanza di autorizzazione all'immissione di fumi in atmosfera.